Sono dell'idea che non si può passare dal dire alla Lombardia la migliore sanità del mondo a dire alla Lombardia la peggiore sanità del mondo. Bisogna avere il realismo, la concretezza di capire che la Lombardia ha probabilmente un'ottima sanità in condizioni normali, manca di medici di base e di prevenzione per cui quando c'è una pandemia o un'emergenza sanitaria rispondono bene. Allora invece di buttare tutto a mare forse bisogna integrare questo pezzo. Io penso che la discussione sulla sanità lombarda è un classico esempio di come si discutono le cose d'Italia. Si passano dal modello Lombardia al modello come se la Lombardia fosse un paese del terzo mondo. Ma è sbagliato, non è vero, non è così. Le proposte di azione sono tutte orientate sulla sanità di territorio. Guardate dove si è riusciti a prevenire e a gestire il Covid e dove c'era la presenza di medici vicini alle famiglie che sono riusciti a intervenire prima di ospedalizzare, che hanno fatto la prevenzione e soprattutto quello che diciamo da novembre quando nessuno parlava di sanità ci vogliono 30.000 infermieri in più, ci vogliono 10.000 medici in più, ci vogliono ed è uno scandalo nazionale le 9.000 borse di studio di specializzazione che mancano per i giovani medici. E' uno scandalo nazionale, un paese che in pieno Covid, pieno di denaro che sta spendendo in tutti i modi non è riuscito a trovare 340 milioni di euro per pagare le borse di studio degli specializzati. Persone che se ne andranno, perché se non è senza specializzazione o rimarranno bloccati o se ne andranno e intanto discutiamo, e oggi il Partito Democratico si è dimostrato la somma delle incoerenze di nuovo perché ha votato contro la mozione di azione e di più Europa per l'utilizzo immediato del MES quindi quelli dicono la mattina che sono fuori del MES e il pomeriggio, sì però ne discutiamo un'altra volta e intanto mentre ne discutono un'altra volta ci sono 9.000 persone che non hanno la borsa di studio. Grazie a tutti.